Il giorno più bello, il giorno più brutto. Tutto a distanza di poche ore, prima l'annuncio dell'uscita della regione Abruzzo dal commissariamento dopo nove anni da parte dell'assessore alla sanità Paolucci e poco dopo la sconfitta della maggioranza che ha le votazioni sulla riorganizzazione della sanità va sotto di un voto. Oggi le reazioni sono molteplici, chi dice che Luciano D'Alfonso abbia perso il sostegno dei suoi, chi giustifica gli assenti nell'ordine il governatore stesso, il consigliere D'Alessandro e i due rappresentanti di Abruzzo Civico, Liviere e Gerosolimo e chi chiede direttamente le dimissioni. Direi il re è nudo a questo punto, la maggioranza deve fare un passo indietro e si deve dimettere perché ieri su uno dei provvedimenti più importanti, se no il più importante della storia della regione Abruzzo, sono andati sotto. L'opposizione ha vinto, l'opposizione ha avuto i numeri per approvare un provvedimento che impegna la giunta, il presidente della regione Abruzzo nonché commissario ad acta a sospendere il decreto per il riordino della sanità in Abruzzo. Vuol dire che D'Alfonso non ha più una maggioranza sulla sanità in Consiglio regionale su questo documento di organizzazione della rete ospedaliera. È normale che anche i consiglieri di maggioranza, quando vengono chiusi o deglassati ospedali, chiusi o deglassati pronto soccorso di comunità che però pagano le stesse tasse degli altri, reagiscano. Non bisogna fare nulla, bisogna ritirare questo decreto, sedersi e farlo in maniera più condivisa. Non dittatoriale perché fin quando c'è in Abruzzo c'è ancora una democrazia. Sia l'andamento che l'epilogo del Consiglio regionale di ieri credo che abbia risentito massimamente di alcune assenze importanti. Per essere precisi non mi sto riferendo al presidente D'Alfonso né al consigliere D'Alessandro che erano ampiamente giustificati e per tempo avevano rannunciato questa loro assenza del Consiglio, uno per motivi istituzionali importantissimi per la nostra regione e l'altro per motivi familiari. Mi sto riferendo invece all'assenza dei membri del gruppo di Abruzzo Civico, ovvero di Andrea Gerasolino e Mario Oliveri. A questa assenza si è unita poi una diversa valutazione che il consigliere Maurizio Di Nicola del Centro Democratico ha ritenuto di votare il documento del Cedo Desi. Alla luce di quello che è successo ieri SEL ha votato il sì per la riorganizzazione oppure ha fatto parte di quel numero che si è opposto alla maggioranza? No, no. SEL come ripeto da sempre ha fatto apertamente, ovvero in campo aperto senza sottosfugi, seriamente, da persone serie tali qual siamo, abbiamo votato insieme alla maggioranza perché facciamo parte di questa maggioranza.